Ragazzi, ieri per la prima volta ho visto un film cult di Tarantino, io ho visto abbastanza film di Tarantino, ma questo che è uno dei suoi film cult non l'avevo ancora visto, sto parlando di Pulp Fiction. Allora, che dire, non farò spoiler, anche se il film in realtà è molto vecchio, quindi ci sono pochissime persone, io ero tra queste, fino a poco tempo fa, che non l'hanno visto, però mi piace l'idea che se qualcuno non l'ha visto lo va a recuperare senza avere i miei spoiler. Allora, il film è un po' strano, soprattutto per come è raccontato, cioè non rispetta l'ordine cronologico degli eventi che avvengono, quindi è proprio particolare per questo motivo, questa è una delle caratteristiche peculiari del film. I personaggi sono diversi, abbiamo due rapinatori che sono i primi personaggi che vediamo, una coppia che mentre decidono questa rapina si chiamano crostatina, coniglietta, coniglietto, cioè è stranissimo questa cosa, loro stanno tranquillamente progettando una rapina mentre bevono il caffè e si danno i nomignori. E poi conosciamo gli altri due personaggi che sono due sicari, Jules e Vincent Vega che è interpretato da John Travolta, mentre Jules è interpretato da Samuel Lee Jackson. E conosciamo quindi la storia di loro due e tutto quello che ne consegue. Il personaggio di Vincent Vega l'ho amato subito, è forse uno dei personaggi più divertenti, ma allo stesso tempo più tragicomici che ci siano. John Travolta è stato bravissimo, soprattutto nella storia, perché sono diverse storie, il film propone diverse storie che poi si incrociano tutte. Nella storia Vincent Vega e Mia Wallace, che è praticamente la moglie del capo di Vincent, dove loro escono insieme per volere del capo, per far sì che Mia non rimanga da sola durante un viaggio di Wallace, e ballano questo twist fantastico con John Travolta che si esprime al massimo, mia interpretata da Uma Thurman, forse una delle storie più belle, insieme a quella dell'orologio che è la storia che ha come protagonista Bruce Willis. Sì, perché in questo film c'è un cast stellare, c'è davvero un cast stellare, veramente con i fiocchi, ma ragazzi il personaggio di John Travolta, io ho visto tantissimi meme su questo film, e tutti i meme riguardano il personaggio di John Travolta e poi capisco perché, perché secondo me è un personaggio ben riuscito, un personaggio tragicomico che però non riesce a non amare. E poi ovviamente c'è uno dei personaggi migliori che io ho sentito nominare tantissimo in diversi film che è Mr. Wolf. Io non vi dico che è Mr. Wolf per chi non ha visto il film, ma è uno dei personaggi secondo me più geniali che si potesse ideare all'interno di un film ma di una storia in generale. Quindi secondo me questo film di Tarantino merita perché, come mi diceva il mio ragazzo, per gli standard di Tarantino c'è poco sangue effettivamente. Per chi vede i film di Tarantino, ad esempio mi viene in mente c'era una volta Hollywood che è uno dei miei preferiti, che soltanto la scena finale è un preludio di sangue a non finire. Invece questo film ne ha molto di meno perché si concentra molto sulla dinamica di non rispettare l'ordine cronologico degli eventi e di far sì che tutte le storie si incrocino, tutti questi personaggi si incrocino. È molto particolare, molto interessante. Non l'avevo mai voluto vedere perché credevo che fosse noioso e invece l'ho trovato dinamico. Soprattutto la parte appunto dove arriva il personaggio di Mr. Wolf con Jules, appunto Samuel E. Jackson e appunto John Travolta nel ruolo di Vincent Vega, che poi ragazzi Vincent è un nome fantastico, Vega, bellissimo. Quella scena è fantastica, all'altro in quella scena appare anche il regista Tarantino nel ruolo di un amico di Jules. È fantastico, davvero. È un film che secondo me dovete gustarvi e secondo me è decisamente un cult. Non secondo me il migliore di quelli che ho visto di Tarantino perché sicuramente c'era una volta Hollywood e secondo me uno dei migliori anche se è molto sottovalutato, non è stato tanto amato dalla critica, ma io l'ho amato tantissimo. Però devo dire che rispetto ad altri film che avevo visto, tipo Django che non avevo amato tantissimo, questo qua forse è un po' meglio, d'altro ne è uno dei pochi film di Tarantino che non ha Leonardo DiCaprio, che a me piace tantissimo e mi sono stupita come mai in questo film non ci fosse. Però devo dire che il film ha funzionato tantissimo e si regge tantissimo sul personaggio, secondo me, di John Travolta, che è proprio appunto il personaggio principale, secondo me, nonostante ci sia appunto un cast stellare, come vi dicevo proprio all'inizio. Secondo me il titolo di film cult lo merita, diciamo. Lo merita perché è appunto un film diverso, che non vuole rispettare l'ordine cronologico degli eventi, ma vuole raccontare in base a quello che succede, si deve incrociare tutto in questo film, è particolare. Un po' vi posso dire che alla prima visione rimani un attimo per preso perché dici ma perché non me l'ha detto prima questa cosa, ma perché me la tira fuori adesso? Ci sono delle scene che non ti spieghi onestamente, però per il resto devo dire che mi ha stupito piacevolmente. Simpatico, stiloso, forse un po' lungo, quello sì, ma sappiamo che i film di Tarantino lo sono, però devo dire che il tempo scorre abbastanza in fretta. Dimenticavo che c'è anche Christopher Walken, che io adoro, ha un ruolo proprio piccolissimo, però è un attore che a me piace davvero tantissimo, quindi anche se è un ruolo piccolo mi ha fatto piacere vederlo. Però devo dire che io non ho visto tantissimi film con John Travolta, ma in questo film l'ho rivalutato tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, ha proprio uno stile tutto suo e davvero sì, ve lo consiglio davvero tanto. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale e fatemi sapere se ci sono altri film che vorreste sentire recensiti qui sul mio canale. Un abbraccio a tutti!